Benvenuti a tutti nel canale Dementis, oggi sono io, Folk, e vi porto la lista aggiornata del mio Naturia Fortissimo e imbarazzantissimo, che però dopo vi faccio vedere una mano di prova e vediamo come si comporta È stato aggiornato a seguito della hit degli Ishizu e sinceramente ha perso molta consistenza da quando li ho tolti Perché mi rimischiavano i target e quindi potevo continuare con le strategie turno dopo turno Adesso invece deve essere un po' più pensata la situazione Ma partiamo con la lista 3 Mol Cricket e 3 Camellia, che sono le carte principali del deck Mol Cricket la offriamo come tributo, evochiamo 2 dal deck se l'avversario ha un mostro con più attacco Altrimenti se offre come tributo evochiamo semplicemente un Naturia dal deck Quando sincronizziamo o evochiamo dal nostro extra deck un mostro Naturia lui rientra e è veramente fortissima Speriamo che il fatto che dica quando evochiamo dall'extra deck implichi che verranno su nuovi supporti da extra per il Naturia Ma la vedo dura, magari un link 1 che nega le trappole e le magie Che nega i mostri Poi la Cammedia, che è l'altra carta principale del deck Lei quando viene evocata fa fulici di una carta Naturia E in più quando l'avversario evoca, ci evoca dal cimitero un mostro Naturia E se un Naturia richiede di offrire come tributo possiamo invece millare 2 Tutti rigorosamente una volta per turno Naturia girasole che quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro, mano, terreno, cimitero, possiamo efferire come tributo lui e un altro mostro Naturia Negare e distruggerlo Non è una volta per turno perché è una carta vecchia, fortissima E lo stink bug che quando ci viene attaccato un mostro Naturia lo mandiamo al cimitero e termina la battle phase Magie trappole, blessing, che ci evoca specialmente da mano cimitero un Naturia Non è una volta per turno Ha gli altri due effetti di farci fusionare o sincronizzare tramite effetto rapido Utilizzando mostri Naturia durante qualsiasi turno in pratica Utilizzando almeno un mostro Naturia possiamo sincronizzare o fare una fusione di qualsiasi mostro Può essere interessante come cosa L'albero sacro invece è motore del mazzo quasi In quanto quando va al cimitero ci aggiunge una carta Naturia, magia trappolo o mostro Anche gli effetti secondari di tributare un insetto terra ed evocare un pianta terra Oppure di tributare un pianta terra ed evocare un insetto terra dal deck Di livello 4 in inferiore Dopodiché un piccolo reparto verna silfide Che ci serve per far girare un po' il mazzo ed evocare specialmente Abbiamo la fatina, la papperella e il fatino più la dea Le prime sette carte, queste qui Condividono tutti l'effetto di scartare loro stessi più un altro mostro Ed evocare un mostro data dal cimitero Dopodiché non possiamo più attivare gli effetti se non dei mostri terra Questi ce l'hanno tutti e tre In più hanno ognuno una peculiarità Lei ci aggiunge dal deck alla mano una carta verna silfide Lui ci aggiunge dal deck alla mano una fata terra Mentre lui ci manda al cimitero un mostro terra Che però non possiamo subito rievocare col suo effetto Hanno anche degli effetti sul terreno ma sono molto secondari Lui raddoppia l'attacco di un verna silfide Lei fa sì che non vengano distrutti in battaglia E lui fa perdere l'attacco a tutti i mostri di un verna silfide La dea è il boss monster del loro archetipo Ha degli effetti veramente devastanti In quanto durante il nostro turno Prende il controllo di un mostro dell'avversario perennemente E lo fa diventare terra Durante il turno dell'avversario ci fa evocare specialmente Dal cimitero come effetto rapido Un mostro terra E in qualsiasi turno se abbiamo 5 più mostri terra Nega e distrugge l'effetto di un mostro Veramente veramente forte Un mudora Per rimischiarci quelle poche carte Che ci servono per andare avanti qualche altro turno Lo mandiamo al cimitero tramite il verna silfide Oppure lo umiliamo Non è difficile averlo al cimitero Sto ancora pensando se giocare anche gli altri in monocopia Però ora come ora mi trovo bene così Però solo il tempo me lo dirà E il mio archetipo punk nel Natura Che è stato rimpolpato Dato che ho tolto tutti gli shizu Quindi abbiamo Ah i punk ricordo che li gioco perché sono terra E quindi posso attivare l'oreffetti Anche se ho attivato i verna silfide A parte la volpina Ma la volpina Essendo l'unico mostro luce Certo Nibiru che è nel deck Riesco comunque a risolverla Basta semplicemente attivarla Quando non ho ancora attivato i verna silfide Abbiamo Ze Amin Che pagando 600 ci aggiunge un punk Qualsiasi Dal deck alla mano La volpina Che scartando lei è una carta Molto spesso capita di scartare anche l'albero sacro Che poi ci aggiunge altri mostri Naturia Evoca un punk dal deck Notacervo Quello che viene evocato dal deck Per andare a evocare sincro poi E ci rievoca un punk dal cimitero Gon Che ci prende la magia E la magia Che ogni volta che paghiamo dei life points Per attivare l'effetto di un punk Ci fa pescare uno Fino a due volte per turno Questa carta se è abusata è fortissima Quanto anche se il deck è una sorta di mischione Comunque pescando due Riusciamo a vedere le nostre strategie E in più ci fa evocare specialmente dalla mano un punk Tre teletrasporti di emergenza Fanno evocare qualsiasi punk dal deck Volendo si può giocare meno copie dei punk Perché tanto ci sono i teletrasporti che ce li evocano Però per ora sto provando così E poi tre Nibiru che ora vanno forti E tre Book of Moon Perché contro Shatry la posso sempre tirare Anche contro altri deck è comunque fortissima E soprattutto è rapida Quindi la posso settare Se vado primo Mentre che ho messo tutta la mia board Con Spell Negate Monster Negate Che fa questo deck L'avversario magari parte con un Fenrir Prova ad attaccarmi E mi ribalterebbe la board E lo copro E finisce lì Non è per niente male questa carta Comunque ci sono gli Eclipse Che ora ho messo di side Perché non li ho Probabilmente è meglio giocare di main Rispetto a Book of Moon Magari togliere Book of Moon Però a me La singola copertura rapida Senza far pescare niente all'avversario Piace molto Poi Nell'extra abbiamo Bestia Che nega le magie Quindi è sempre sul terreno Bartion Che nega le trappole Non è quasi mai sul terreno Però Quando iniziasse il secondo E il terzo turno E l'avversario ha qualcosa settato Uno lo mette lì E è tranquillo Dark Strike Fighter Perché ho paura di andare al tempo E perdere life points Principalmente Essendo un deck Comunque un po' lento Il mio Magari essendo anche il meta Un po' lento Si riesce ad andare spesso al tempo Se parto con la combo punk E quindi inizio a perdere life points Ho bisogno di fare un mostro Lui è livello 7 Riesco bene a farlo Ho bisogno di fare un mostro Che faccia parecchi danni Lui ne fa 1.4 E quindi anche se ho perso 1.200 life points Per colpa dei punk Riesco comunque Ad andare poi in vantaggio Ovviamente una carta Cattabilissima È solo un mio problema Punk Gem Spinta Drago È ottimo nella combo Per arrivare al punitore Psicofinale In più ci aggiunge un punk Dal deck Il Crystal Wing Che si fa molto facilmente In questo deck In quanto magari Ho un bestia sul terreno Che è sempre vissuto Al turno dell'avversario Io nel mio turno Evo con qualsiasi Punk livello 3 E lo faccio E poi è veramente forte Trisciula Che bandisce 3 carte L'Amazing Dragon Che ora come ora Ce l'ho messo Ma non l'ho mai fatto Perché avendo aumentato Parecchio Il reparto punk Magari poi Una volta fatto il punitore Psichico Mi li trovo morti E invece ho comunque La possibilità Di andare a fare lui Nei turni successivi Che rimbalza 2 E speciale dal cimitero Non è per niente male Il punitore psichico Che entra nel terreno Sperando di sopravvivere il turno L'avversario deve Deve togliertelo E magari sprecherà Tutte le risorse Per toglierti lui Lasciandoti magari Carte come bestia O altro E comunque Con lui nel terreno E bestia Inizia a essere difficile La situazione Recicala Quando tutta la combo punk Risolve Possiamo fare uno Xyz 3 Lui è il migliore Che secondo me Posso metterci In quanto Nega i mostri Cosa che questo deck Fa sì Però un pochino A fatica Quindi lui nega mostri E in più Rievoca un insetto Dal cimitero Perfetto per rievocare Grillo Talpa Baguska Che dovrei fare più spesso Quando bricco Però mi dimentico Quindi magari Inisco con una bordina Un po' triste Quando in realtà Facendo Baguska Posso stare molto tranquillo Inoltre Se fate Baguska Più la Dea L'avversario magari Riesce a togliere Baguska La Dea può subito Rievocarlo E quindi avere Due Baguska Insomma Toglierli non è proprio Così semplice Cowbagagaga Per i danni al tempo Aoussa La Charmer Perché rievoca Fenrir degli avversari Nightmare Cerberus Perché spacca Baguska Avversari E ci fa scartare Che è buono In più è terra Quindi risolve sempre Mascherena Che è cattabilissima Sinceramente è qui Perché non sapevo Cosa altro metterci E un Black Luster Soldier Perché è terra E comunque è un bel Boss Monster Che si fa con tre mostri Quindi ci stanco I su deck Nella side abbiamo Bamboo Shoot Quando vado primo Lo metto E l'avversario Non può attivare Magio Trappole Quindi eventuali Dark Ruler Ultimate Slayer O Super Poli O anche Droplet Che non possono essere negate Dagli effetti dei mostri Proprio qui Lui non le può attivare Andando primi E l'avversario Ha una buona side Gliela fermiamo tutta Se ne pesca Tre o quattro Dei cut side Passa Abbiamo vinto Spooky Dogwood Per il tempo Dato che spesso ci vado Ho bisogno Più possibile di fare danni Un Change of Art Un Mind Control Che sono veramente forti Andando seconda Mi piacciono Sostituiteli benissimo A TTT Ora come ora Io ho messo loro Perché sono molto più economiche Uno spolvrino delle arpie Questo dipende molto Mi sento debole Se non ce l'ho Mi sento scoperta Dai deck con le trappole Quindi uno ce lo tengo sempre Due Lava Golem Perché spesso Non abbiamo bisogno Della Normal Sinceramente Riusciamo spesso A fare anche tutto Quello solo di special E due Lava Golem Ora come ora Possono anche togliere Due Shatry Con cui va a finire La board Il deck Quindi ci risolve Un po' la situazione Book of Eclipse Perché sì Ora è fortissima E tre Evenly Matched Perché nonostante tutto È sempre comunque molto forte In quanto anche L'avversario rimane Comunque con una carta Sul terreno Comunque hai Bandito Tutto il resto È veramente forte Questo è il deck Vi faccio vedere Velocemente Qualche mano di prova Vediamo un po' Come si comporta Questa è una bellissima mano Che capita sempre Un brick assurdo In cui peschi Tre copie Della stessa carta Ma vediamo La potenza di questo deck Che comunque Riesce a fare qualcosa Partiamo subito Con l'effetto Della nostra Mini Vera Scartiamo Lei Maul Cricket E ci aggiungiamo Un altro Verna Sift Dal deck alla mano In questo caso La paperella E dopodiché Andiamo a prendere Maul Cricket Dal nostro cimitero Ora possiamo Evocare la dea Possiamo attivare Di nuovo Il vernalizer E vediamo Cosa è meglio fare Attualmente La scelta migliore È Attivare lui Scartare Vera Non attiviamo Maul Cricket Andiamo a prendere L'ultimo Maul Sift Che abbiamo Specialiamo La nostra Vera E già Abbiamo fatto Un bel Boss Adesso andremo Attivare Maul Cricket Probabilmente È meglio Farlo prima Facciamo la Cammelia Attiviamo L'effetto Di Cammelia Mandiamo La trappola Al cimitero La trappola Si attiva E ci prende La magia Ricordate Che sia la trappola Che magia Non sono una volta Per turno Quindi potete Spammarle Continuamente Rievochiamo Dal cimitero Il nostro Grillo Talpa Andiamo Ad evocare La nostra Naturia Bestia Il Grillo Talpa Dato che abbiamo Evocato dall'extra Un Naturia Rientra Specialmente E con una mana Abbastanza Briccosa Abbiamo comunque Fatto Ora come ora Un negate Continuo Di magie Un'interruzione Nel tondo D'avversario Perché ci va Evocare Mostri Dal deck E una dea Che comunque Può ancora negare Se riusciamo Ad avere 5 mostri Sul terreno E ci rievoca Specialmente Dal cimitero Un mostro Non è ancora finita In quanto Io posso Attivare L'ultimo Verna Silfide Che ho in mano Mandare Dal deck Al cimitero Un mostro Terra In questo caso Manderò Il girasole E poi Ne vado A specialare Uno dal cimitero Vado a riprendermi Proprio la camelia Vado a rievocare La camelia Questa è la situazione Che abbiamo Sul terreno Bestia Camelia Mol cricket Nel turno dell'avversario Cosa facciamo Possiamo Negargli Qualsiasi numero Di magie Appena lui Evoca un mostro Camelia Si risolve E rievocherà Un natore Dal cimitero Che sarà Girasole A quel punto Girasole E camelia Possono negare Due effetti Dei mostri E distruggerli In più Abbiamo Vera Che può negare Perché abbiamo A quel punto 5 mostri Terra Sul terreno Quindi abbiamo 3 negate Di mostri Bestia Che nega Tutte le magie E Mol cricket Che si può Offrire come Tributo Ed evocare un natore Dal deck Il natore Che andremo Ad evocare Dipenderà Dalla situazione Se l'avversario Evoca normalmente Un mostro Ci vuole attaccare Andremo a prendere La cimice Che termina La battle phase E poi dopo Al turno dopo Lo distruggiamo Vediamo cosa si può Pescare Andremo poi a pescare Un foxy toon Perfetto poi per ripartire Con le varie combo Del deck Quindi questo Si fa con una mano brick Ripartiamo Ovviamente Non credete che sia Un deck ultra competitivo Soffre tantissimo Le hand trap È un deck Molto amatoriale Però È divertentissimo Secondo me Questa è un'ottima mano Se fosse stato un natura Sarebbe stata proprio perfetta Vediamo cosa possiamo fare Prima cosa Teletrasporti di emergenza Vediamo i nostri amici punk Attivo gone Pago 600 life points E prendo la terreno Attiviamo subito la terreno E adesso Pescheremo Più possibile Evochiamo normalmente Ze Amin Attiviamo Ze Amin Pagliamo 600 E ci aggiungiamo la polpina Che Attenzione Luce Quindi non potrà attivare gli effetti Una volta attivati Verna Silphide Peschiamo 1 Quindi Adesso Possiamo Possiamo procedere Qui la situazione È particolare Perché sarebbe stato meglio Pescare un'altra carta Però Io Vado ad evocare un punk Dal deck Scartando una carta Mi tocca scartare quella Vado ad evocare La nostra nota cervo E ora Possiamo passare Ad evocare special Dal nostro Extra deck Spinta Drago Qui sempre Catena 1 Nota cervo Che ci rievoca un 3 E catena 2 Lui che ci aggiunge Un punk Perché se vi negano Nota cervo È un problema Rimanete bloccati Mentre Se vi negano Lui che aggiunge Potete comunque fare Il vostro punitore Psichico finale Quindi Mettete sempre in catena 1 A nota cervo Dopodiché Peschiamo di nuovo 1 Adesso abbiamo anche Un natura Quindi Vedete che questa carta Riesce anche a Nonostante sono molti punk Quindi Possiamo partire Senza vedere In natura Grazie alla sessione estrema Possiamo pescare 2 Poi scartiamo Svoltiamo il deck Quindi è molto probabile Pescare le carte Che ci servono E adesso Andiamo a fare Il nostro Punitore psichico finale Che Già Diciamo che Abbiamo Una terreno Che ci fa Evocare specialmente Dalla mano Un 600-600 Un punitore Psichico finale E 5 carte in mano Quindi Diciamo che è venuto Quasi gratis Questa cosa Non possiamo fare la normal Adesso Però abbiamo la blessing Che ci fa esfucare specialmente Dalla mano E i vari verna silfidi Che ora possiamo attivare Senza paura Quindi Direi subito di Attivare la paperella Scarto la camelia E aggiungo Una fata terra Dal deck A mano Prenderò lei E poi Posso evocare un terra Possiamo evocare qualsiasi cosa Perché sono tutti terra Ma noi adesso Abbiamo bisogno Dei nostri naturia Attivo il suo effetto Mando al cimitero La trappola La trappola si attiva Prendo il nostro grillo talpa Vado ad attivare L'altra verna silfide Scarto il grillo talpa E mi aggiungo in questo caso La nostra goddess E poi speciale un terra dal cimitero Che è grillo talpa Sempre lui Entra e esce dal terreno Come se non ci fosse un domani A questo punto Posso attivare grillo talpa Possiamo scegliere di millare 2 Invece di offrirlo come tributo Direi che è necessario Perché così poi possiamo fare bestia Quindi milleremo 2 Attenzione abbiamo mirato un albero Quindi fortissimo Evochiamo un naturia dal deck Evoco il girasole Si risolve la trappola Quindi aggiungiamo una qualsiasi carta naturia Blessing è sempre la migliore da avere Ora possiamo fare la nostra cara Possiamo fare qualsiasi cosa Della strada deck quasi Ma faremo la nostra bestia E grillo talpa Come sappiamo Rientra sempre Abbiamo anche il nostro grillo talpa Possiamo adesso andare Ad attivare la nostra sessione estrema Quindi bandiamo un mostro punk dal cimitero Ed evochiamo l'altro specialmente dalla mano Procediamo ad evocare il nostro recicala Con i livelli 3 Ho sbagliato Andrebbe fatto in attacco Perché poi con il suo effetto Si cambia la posizione Possiamo ancora attivare Un altro verna silfide Che ci permette di mandare dal deck al cimitero Un mostro terra In questo caso manderemo mudora E poi specialeremo la nostra dea Sinceramente la dea in questo momento Potevo risparmiarmela In quanto non posso avere 5 mostri terra Perché sia il punitore Che il recicala Che è un vento Sarebbe buono anche metterci Uno rango 3 terra Così possiamo comunque attivare la nostra dea Però diciamo che avere tutto sul terreno così Non succede quasi mai Quindi al cimitero potremmo attivare mudora Possiamo comunque ancora evocare specialmente altre cose Però adesso non c'è bisogno Mi posiziono una blessing Per rievocare specialmente dal cimitero Un naturia E adesso sì Scusate La dea era meglio non evocarla Era meglio tenersela in mano Perché così nel suo turno Rievocavo una cammelia E con cammelia e sunflower Potevo negare Ho mispleiato però Era per farvi vedere quante cose può fare questo deck Quindi questo è il deck Se vi è piaciuto Scrivetemelo E consigliatemi magari modifiche O cambiamenti da fare Non mi dite Guarda è meglio solo giochi singolarmente Con un naturia Più tutte le entra Perché a me Mi piace un po' mischiare gli archetipi E niente Andate a vedere tutti gli altri video del canale Mettete like Commentate Ed iscrivetevi E ciao a tutti Ciao a tutti